Rotolando verso sud non c'era, non era presente con noi perché aveva dei seri problemi perché lei studia tantissimo una persona che dà molto è importante il suo ma si fa la domanda che scuola che studi? io a studiare il mio paese e che studi? io vi sapeva la matrice a facoltà a facoltà di non rispondere a facoltà di non rispondere stavamo dicendo lei studia tante tante io non so se queste cose vengono detto con sarcasmo o no però in questo caso noi facciamo vedere in tutte le salse la nostra Sveti nella sua posizione vi faccio vedere quello che vedo io tutti i giorni una carrellata della bellezza non nostrana perché non è nostrana ma è strana questa era bellina e quindi facciamogli fare una passerella perché se lo merita e a voi faccio vedere questa meravigliosa questo gioiello delle donne che stanno al sud della Russia che spesso spesso lei ci fa divertire con i suoi servizi con queste ma che pigliate qua? non stavo guardando niente la telecamera eh poi c'è un anno sta facendo troppo scemo sono di servizio naturalmente queste sono delle piccolezze che noi donne di servizio noi accettiamo adesso non dobbiamo cominciare dobbiamo cominciare la trasmissione non gli posso dire niente perché devi sapere che lo sponsor è lei quindi adesso ci dobbiamo collegare con un paese del Cilento il paese del Cilento che si chiama Sierre Serra Leone e no e Serra Mezzano Sierra Mezzana Sierra Mezzana Sierra Mezzana va bene così come lo dice perché ha una pronuncia una pronuncia perfetta quindi eh va bene tra tutte e due qua ok allora ci colleghiamo con il nostro Tony vediamo se ci sente Tony sei in linea pronto? Signor Dino? ciao signor Dino buongiorno buonasera buon tutto buon tutto oh no no non ho guardato dalla finestra prima non ha provato ad aprire la finestra quindi non sa il tempo che c'è fuori c'è qualche problema c'è qualche problema tecnico con la finestra è un palazzo antico dove mi ospitano qua in questo bellissimo e ridentissimo paese delle colline cilentane siamo niente popò di meno che Serra Mezzana bellissimo che lei conoscerà sicuramente ma come ma come quanti spettacoli quante persone la conoscono qui signor Dino lo dica lo dica tantissime tantissime io so che gli abitanti sono circa lo dica lei sono ben 355 abitanti mila? no no solo 355 ah non mila quelli sono ah quelli sono sono proprio contati uno alla volta quindi c'è stata un'immigrazione a questo paese per andare dove? eh non ho capito la parola ok glielo spiego un po' più semplice sì quello che volevo dirvi sì il particolare è che si parla sempre di fuga di cervelli ma da Serra Mezzana quanti ne sono spariti? no non erano cervelli se ne sono andate proprio le persone proprio tutti e sono rimasti 355 persone e divise in in Serra Mezzana e due ho fatto due così si vede due si 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 vede e due frazioni due frazioni uno si chiama Capo Grassi e uno si chiama San Teodoro ma tutte queste notizie lei come sa anche visto che è arrivato solo oggi pomeriggio a Serra Mezzana eh guardi signor Dino Serra Mezzana è un ridente paesello ma è piccolo questo è un ridente paesino lui è un periodo che gira in questi posti dove vede il sole dove vede i colori dove vede l'armonia signor Dino oggi il sole ne ho visto poco e sono andato un po' in giro per il per il bar del paese non ce ne sono manco tanti neanche di bar siamo a Serra Mezzana 500 metri sul livello del mare perché ho scoperto signor Dino e lei non ci crederà perché io ho studiato che significa sul livello del mare ah ecco quello che noi riuscivamo a capire l'altro certo è un po' scopodo perché da Serra Mezzana per andare al mare ci vuole la macchina ci vuole la macchina lo so abbiamo provato a fare il tuffo ma è complicato perché sotto ci insistono a metterci quelle pietre quelle montagne bene è un paese Serra Mezzana molto antico o no? è un paese antichissimo nell'anno 1000 addirittura si pensa che ci siano le origini e anche nel nome il nome è importantissimo che diventa cioè dipende da due nomi Serra e Mezzana quindi sono due i nomi Serra e Mezzana da questi due nomi Scusa Mezzana Scusi signor Dino signor Dino chiedo scusa sento delle interferenze allora le interferenze oh chi sono in voto che sono in interferenze sono in ipotesi come si chiama vacca quali interferenze ah ho capito perfettamente signor Dino ho capito è la regia è la regia quella che comanda che ci dà le indicazioni benissimo benissimo non mi può avere chiamato carta senta signor Antonio io devo dire che la prossima volta l'inviato lo faccio io perché stare qui in mezzo a sentire tutte e due che litigano per problemi personali loro che non c'entra niente con la trasmissione ecco allora vi spiego subito io volevo io volevo coprire un po' le cose però vi dico perché è solo che la voce che lei sente sotto è perché quando lei parla di Serra Mezzano lei traduce perché è la nostra traduttrice traduce tutto quello che lei sta dicendo nel suo paese nativo che è adesso vediamo un po' se lo zio paga o no va bene signor Dino non lo sa allora continuo vuoi vedere se lo dico a lei ho girato il mondo non lo so da dove vengo ho girato il mondo sono ancora in linea è ancora in linea è ancora in linea chiedo scusa no siccome ci sono gli amici al bar ci facciamo un 3 e 7 benissimo un 3 e 7 l'unica cosa visto che siamo in un periodo festivo sì perché di là a Serra Mezzano siamo sempre intorno sì gli addobbi natalizi le luci anche i natalizi le luci le luci le luci le luci le luci le luci il Natale la Pasqua tutti insieme appassionatamente volevo chiederle una cosa qual è il dolce tipico è il dolce tipico di Serra Mezzana non lo so mi ero preparato su un'altra cosa perché i due nomi l'ho visto che avevo un po' di paura ma hanno sciolto il cane là sotto no non avete capito è che io guardo guardo dietro per dire guardate qua come hanno chiesto no ci abbiamo un attimo che sta traducendo sta traducendo non c'è manca poi le sue dolci non c'è non c'è benissimo allora signorina sono pronto sono preparati i dolci mi sono ricordato si fanno le castagnelle a Serra Mezzano si fanno le castagnelle c'è l'olio e c'è un amico qua solo le castagnelle chi parla qua chiudiamo il servizio da Serra Mezzano a Serra Mezzano grazie la terra di mezzo ti saluto 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 è statoம signor dino questo saluto è stato conturbante si è mezz'ora che abbiamo chiuso io ti ho detto abbiamo chiuso io mi vedo nel coso va bene signor dino da serra mezzana detto anche la terra di mezzo è tutto arrivederci la madonna vi accompagni anche a lei speriamo del tutto che si accompagni con la madonna bene tornando nello studio abbiamo sentito un po tutte le traduzioni nelle lingue la lingua madre e anche la lingua del padre e siamo qui per continuare il nostro servizio però dobbiamo mandare un attimo di pubblicità perché il programma vive anche della pubblicità quindi ci vediamo fra poco